benvenuti in leggenda sbag qui è francesco almasio e come potete notare dal 5 all 11 febbraio per coloro che giocheranno a gta 5 online avranno l'opportunità di guadagnare doppiamente sia denaro che rp tramite gli incarichi del boss ma anche tramite la modalità running back andiamo subito a vedere cosa ci offre dal 5 all 11 febbraio riepilogando potremo avere una modalità elenco partite che alla via di gta e potremmo fare le modalità estrazione e a terra e sotterra la recente modalità a terra e sotterra che ci si butta col paracaduto è molto divertente per quanto riguarda i dollari gta dollar necessari a diventare un boss verranno dimezzati quindi anche coloro che hanno 500 mila dollari potranno essere boss per circa quattro ore nella modalità free mode ed inoltre ci sono vari sconti molto ma molto interessanti infatti avremo il 25 per cento di sconto sulle auto e gli elicotteri di dirigenti altri criminali come la bravado berlier sconti del 25 per cento su luxor e swift in oro sconto del 50 per cento su vestaglie e giacche smoking sconto del 10 per cento su motoscafi sea shark e barche a vela su dock tis e sconto del 10 per cento sulla personalizzazione degli yacht quindi per coloro che non hanno ancora comprato gli yacht e che lo stanno comprando potranno avere uno sconto del 10 per cento dal 5 all 11 febbraio come vedete ci saranno dollari ed rp doppi per l'incariche sfide del boss ci sarà questo elenco partite estrazione zona di consegna gta e dollari rp doppi e inoltre ci sarà la modalità running back che è quello in cui si gioca tipo football americano che avevo fatto un video in cui potrete guadagnare dollari ed rp doppi in ogni caso dollari ed rp doppi saranno solo di running back saranno solo il 6 e 7 febbraio quindi sabato domenica come sempre troverete tutti i link in descrizione e vi ringrazio per l'attenzione lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto spero che il video collaborazione che ho avuto con davro nella live fatta giovedì vi sia piaciuta vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video